vado ok pronti ciao a tutti e benvenuti a questa nuova sessione qui alla giornata io sono marco binu è un piacere essere qua con voi quest'oggi sono qui per raccontarvi quelle che sono un po le ultime novità o almeno quelle che ho trovato più interessanti almeno in quello che faccio normalmente io sul mondo delle giur si quel manager di infanzi allora prima di partire vorrei ringraziare nuovamente gli sponsor della manifestazione che sono assolutamente indispensabili per realizzare questo tipo di eventi e dico due parole veloci su di me io lavoro in soft jam sono un advisory engineer mi occupo sostanzialmente di disegnare architettura in cloud e di implementarle saltoriamente su tematiche azure sono appassionato di azure e in particolare il mondo della data platform ho fondato di recente una community a genova turquine legata a azure se passate di là venite a trovarci se volete rimanere in contatto con me seguite il link about me dotto megamed lab dot com li trovate tutti i miei riferimenti social me mi mandato una mail un messaggio su linkedin se avete qualche problema provo ad aiutarvi entriamo nel vivo della sessione sessione abbastanza sperimentale ho provato qualcosa di nuovo me la sono scritta tutta a mano e moco le animazioni la proiettiamo non mi sento ancora così confidente di scriverla live ma ci arriveremo tanto vi date un po' un feedback se funziona o meno come sistema di cosa parliamo in questa sessione faremo una panoramica veloce su il mondo delle azure sql manager di instance cosa sono quando si usano perché come sono strutturate dopodiché faremo una carrellata di cosa c'è di nuovo in questo mondo partiamo quindi con una veloce introduzione a questo servizio diciamo che quando vogliamo portare un workload sql server in cloud abbiamo diverse possibilità che rispondono a diverse esigenze che possiamo avere se tiriamo due frecce con da una parte controllo della piattaforma dall'altra riduzione della total cost of ownership quindi del costo totale della nostra soluzione l'offering di azure sql database si piazza così abbiamo da una parte l'azure sql virtual machine quindi totale controllo dell'istanza sql server totale controllo del sistema operativo ovviamente oneri di gestione di una virtual machine quindi la dobbiamo patchare la dobbiamo backupare la superficie di attacco è potenzialmente molto ampia e quant'altro le virtual machine tipicamente si vanno a utilizzare in scenari di lift and shift quindi quando ho necessità di migrare un workload legacy quando ho necessità di migrare un workload alla svelta quando ho necessità di introdurre il minor numero di cambi possibili tra on prem ed azure la virtual machine può essere una soluzione idonea all'estremo opposto quindi massima riduzione della total cost of ownership a scapito del controllo sulla piattaforma ci sta azure sql database azure sql database soluzione full pass quindi auto aggiornamenti alta disponibilità built in nella soluzione entro certi limiti automatic tuning del nostro database e quant'altro è ideale per scenari di rebuild di una soluzione perché tipicamente per quella che è la mia esperienza difficile che un db esistente sia portabile direttamente verso azure sql database probabilmente dovrò cambiare qualcosa anche perché banalmente il tsql che si può usare è una solo una parte di quello che facciamo on prem quindi potenzialmente potrei dover cambiare la struttura dati potrei dover toccare le store procedure non funzionano le query cross database nativamente bisogna fare delle re ingegnerizzazioni nel mezzo si piazzano le azure sql manager di install quindi istanza gestita che si porta a casa tutti i benefici del del pass ideale in scenari di re platform quando io voglio portare su il mio workload sono disponibile a fare un quantitativo minimale di cambiamenti voglio utilizzare un servizio passa al posto di una virtual machine come vi dicevo ci portiamo a casa tutti i benefici del pass quindi automatici backup automatici auto aggiornamenti alta disponibilità e quant'altro abbiamo una feature parity rispetto a un istanza sequel tradizionale prossima al cento per cento ci sono delle piccole differenze dovremmo fare dei piccoli adattamenti ma tendenzialmente nulla di particolarmente trascendentale e abbiamo un controllo a livello distanza vuol dire che a dispetto di cosa succede su azure sql database tornano a funzionare alcuni servizi che si erano persi tipo banalmente il sql server agent che in azure sql database non esiste andiamo avanti e parliamo di un'altra peculiarità che è legata alla componente di networking dove si piazza una azure sql manager di install allora ipotizziamo di avere una virtual network all'interno del quale andiamo a distribuire le diverse funzionalità le diverse piattaforme di azure sql una virtual machine con a bordo sql la posizioniamo dentro una subnet quindi sta dentro nostro perimetro di rete ha un nostro ip privato per contro un azure sql database sta fuori dal nostro perimetro di rete normalmente è raggiungibile su connettività pubblica su un public endpoint poi nel corso corso dell'ultimo periodo microsoft ha introdotto una funzionalità che si chiama private endpoint che sostanzialmente al lato pratico è una scheda di rete agganciata a una risorsa pass e mi permette tramite un gioco di dns di raggiungere quella risorsa pass tramite indirizzamento privato e potenzialmente posso chiudere il public endpoint del mio azure sql db quindi quando cerco di risolvere il nome di quel db ottengo un indirizzo privato e passo da dentro la managed instance invece è nativamente integrata nella vnet quindi mentre l'azure sql database richiede un private endpoint che ha delle complessità di configurazione e dei costi perché il private endpoint si paga così come si paga al traffico che lo attraversa la azure sql managed instance nasce all'interno della mia vnet avrò una subnet dedicata indirizzamento privato quindi sta dentro la vnet e se mi serve posso assegnargli un public ip quindi se ho bisogno di raggiungerla da fuori eventualmente posso pensare di raggiungerla con un public ip meglio se passo da altre parti andiamo avanti e introduciamo i diversi modelli di servizio la managed instance nasce in due modalità da una parte abbiamo il general purpose quella più comune quella adatta workload lasciatemi dire generici come funziona i database i nostri database stanno appoggiati su azure storage nello specifico ogni data file ogni log file sarà posizionato su un managed disk di tipo premium dietro le quinte la nostra istanza è un qualcosa di stateless un container su service fabric che si collega ai db se c'è un fault sulla nostra istanza cosa succede viene avviata una nuova istanza stateless che ripunta i db sostanzialmente in termini di downtime è un po l'equivalente di quello che succede quando va giù un failover cluster il servizio riparte da un'altra parte questo come vi dicevo è particolarmente adatto a workload generici che non hanno estreme necessità in termini di performance diciamo che tendenzialmente un po tutti quei sistemi che girano su normalmente su una sql server standard edition potrebbero essere degli ottimi candidati per questo tipo di servizio dall'altra parte abbiamo il business critical business critical è decisamente più complesso perché abbiamo un sistema basato su quattro container che sfruttano lo storage locale del sistema su cui insistono questi container quindi hanno delle latenze di accesso decisamente più basse e questi quattro container sono configurati con always on availability group quindi abbiamo un istanza una replica primaria accessibile in lettura scrittura e tre repliche secondarie completa il sistema un listener che smista le chiamate by design abbiamo una replica primaria accessibile in read write come vi dicevo e incluso nel prezzo del servizio un una delle tre istanze una delle tre repliche secondarie accessibile in sola lettura per l'offload della reportistica banalmente ora in questo caso cosa succede se c'è un fault va giù una delle quattro repliche viene promossa una nuova replica come primaria che comincia a replicare con le altre e nel frattempo parte una nuova istanza che va a sostituire quella che è venuta giù il listener ruota poi il traffico su altre due repliche sulla primaria è una delle secondarie quindi un sistema più complesso ha un costo più elevato ha dei tempi di ripartenza più bassi perché col sistema always on sostanzialmente l'istanza che diventa primaria ha già la cache preriscaldata mentre invece qui è come se fosse un failover cluster il servizio parte from scratch e alla buffer cache vuota quando switcha questo è un work diciamo è uno scenario quando utile quando servono dei livelli di disponibilità molto elevati o comunque della latenza cioè si ha necessità di avere bassa latenza sullo storage perché usiamo storage locale e non remoto come in questo scenario lo sla di entrambe le soluzioni comunque al netto di quello che vi ho raccontato è sempre di 4 9 quindi parliamo di servizi estremamente affidabili configurazione hardware e qui cominciano ad arrivare le novità perché ultimamente avevamo l'hardware di generazione 5 che è stato ribattezzato standard inizialmente il servizio è stato rilasciato con hardware di generazione 4 generazione 5 poi è rimasta solo la generazione 5 che aveva un po di limiti perché perché è basata su hardware relativamente datato è l'hardware della serie v3 delle virtual machine per intenderci sono gli stessi processori dietro le quinte abbiamo un certo quantitativo di ram per core che non è tantissima e spaziamo quindi dai 4 agli 80 virtual core tenendo presente che la piattaforma utilizzare con hyper trading acceso quindi parliamo di core logici dietro le quinte e arriviamo a un massimo di 504 gigabyte di ram diciamo sono buoni numeri ma non vanno bene per sistemi molto grandi a me è capitato di ragionare su come migrare un'istanza con un per mezzo di ram qua sopra non ce la puoi mettere ultimamente in preview è stato rilasciato l'hardware di tipo premium con processori più freschi è l'hardware che sta sotto alle versioni 4 delle virtual machine quindi decisamente più più recente e un rapporto ram cpu più alto si è tornati al livello della generazione 4 di hardware anche in questo caso abbiamo sempre dai 4 agli 80 core con 560 giga di ram massimo la ram ovviamente dipende dal numero di core più scalo il numero di core più ram avrò a disposizione sempre in preview è stato rilasciato l'hardware premium memory optimized la cpu è la stessa del premium quindi abbastanza recenti il quantitativo di ram per singolo core è aumentato posso arrivare a 870 giga di ram quindi il gioco comincia a farsi serio lato storage invece la differenza è data sostanzialmente dai diversi tier di servizio il general purpose è abbiamo detto sta su storage remoto quindi ha latenza tra i 5 e 10 millisecondi tendenzialmente e ci permette di ospitare fino a 16 terabyte di database sulla singola istanza ovviamente lo spazio cresce al crescere del numero di core che allotiamo per quanto riguarda le performance dei singoli data file variamo tra i 500 e i 7500 iops per data file perché come vi ho detto prima sono ospitati su manage disk dietro le quinte più grosso il nostro data file più grande sarà il manager disk e più forte andrà sostanzialmente sul mondo business critical invece cosa succede abbiamo storage locale usiamo i drive and vme dei cluster su cui gira il tutto abbiamo latenza tra gli 1 e 2 millisecondi abbiamo 4 terabyte di spazio massimo sulla generazione 5 le nuove generazioni hanno un po più di capacità fino ad arrivare ai 16 terabyte ovviamente essendo i tier premium e premium memory optimized in preview anche la disponibilità di spazio sta in preview in questo caso non abbiamo limiti per data file ma siamo vincolati ai core più core abbiamo e più iops possiamo fare sulla nostra istanza bene vi ho un po raccontato cosa è il general purpose cos'è il business critical come facciamo una volta che abbiamo capito qual è il tier che ci serve come facciamo a dimensionare il nostro sistema sulla parte di dimensionamento cosa dobbiamo fare una bella cattura di performance counter se abbiamo un workload esistente che va migrato dobbiamo sapere di quanto ferro ci serve per gestire quindi si catturano performance counter legati a cpu storage memory nella documentazione ci sono esplicitati anche dei counter specifici che potete andare a prendere ma sono sempre i medesimi percent processor page life expectancy e così via per capire quanto sta bene la vostra istanza di partenza quanto è carrozzata e poi a questo punto una volta che avete i dati dovreste ribaltarli in logica cloud sulla base di quello che vi ho brevemente raccontato prima leggendo la documentazione dovete fare la traduzione tra mondo on prem e mondo pass se volete un approccio guidato alla tematica potete usare il data migration assistant che ha una nuova feature che si chiama skill recommendation o azure data studio con l'estensione azure sql migration queste due funzionalità vi danno la possibilità di sostanzialmente catturare i dati del vostro sistema on prem ovviamente dovete lasciare andare la cattura dati per un periodo di tempo sufficiente affinché i dati siano rappresentativi del vostro workload se catturate un periodo in cui la macchina sta in idle ci fate poco dovete prendere un momento in cui la macchina è bella sotto sforzo e come funziona vi faccio vedere una breve demo qui ho registrato la prima parte qui c'è data migration assistant su questa macchina ha una console application che si chiama sql assessment che è in grado di fare la cattura con un file json di configurazione oppure potete esplicitare questi parametri a command line qui adesso lo lancio su una macchina con workload fuffa ma sostanzialmente ho accelerato questi sono dieci minuti di cattura dovreste farlo andare per giorni per avere qualcosa di significativo una volta che avete finito la cattura poi non dovete far altro che utilizzare la stessa console application vediamo se atterro sulla macchina giusta la stessa console application vedete qui sql assessment si usa il comando diciamo get skew recommendation passandogli la folder dove sono stati salvati i dati raccolti tramite performance counter gli si dà al target platform e questa console application è in grado di fare simulazioni per virtual machine azure sql database ed azure sql managed instance in questo caso facciamo verso una managed instance se diamo invio qui io ho pochissimi dati quindi è rapidissima la questione ci dà già una simulazione tenete presente questa macchina non stava facendo niente stavo simulando un po' di traffico sui dischi con disk spd quindi lato sql non stava succedendo nulla mi ha consigliato il taglio più piccolo di gen 5 quindi hardware standard e mi dice perché mi ha consigliato questo se vogliamo consultare un qualcosa di più pratico l'esecuzione della console application produce anche un report html che riporta sostanzialmente le stesse informazioni mi dice che cosa ha visto dai dati che ho catturato e mi dice per quali ragioni ha interpretato quei dati per darmi un certo tipo di consiglio questo sistema è applicabile anche a un array di istanze quindi se devo fare una migrazione massiva nel file di configurazione metto più connection string posso processare più istanze insieme e avere nel report quindi un riepilogo complessivo torniamo di qui questo adesso lo posso chiudere no qua ok andiamo avanti e parliamo di autenticazione come ci si autentica su una managed instance fin dalla notte dei tempi c'era la sequel out canonico utente sequel come nei sistemi on prem possibilmente da evitare perché diciamo se non si abilitano le policy che di default sono disabilitate non si ha enforcing di una password policy non si ha scadenza delle password sulle utenze quindi potenzialmente ci sono dei problemi di sicurezza con questo tipo di autenticazione è stata poi introdotta l'autenticazione di Azure Active Directory quindi posso fare login con dei principal definiti in Azure Active Directory il problema in questo caso si ha con le applicazioni legacy perché affinché un'applicazione legacy possa sfruttare questo tipo di autenticazione devo modificare la connection string per utilizzare un driver relativamente recente in grado di fare l'autenticazione verso Azure AD se sto migrando un'applicazione legacy il fornitore è fallito non so più chi ci potrebbe mettere le mani dentro non voglio toccarla, è un rischio potrebbe essere un problema cambiare il driver di conseguenza viene in aiuto in questo caso la preview della Windows Authentication per gli account Azure AD sostanzialmente cosa si fa? tramite una configurazione di Azure Active Directory che è più o meno lineare con le versioni di sistemi operativi molto recenti leggermente meno a partire da 2012 in su ma comunque funziona viene abilitata la possibilità per token Kerberos e quindi i miei utenti possono collegarsi con utenze di Azure Active Directory on-prem replicati in Azure Active Directory deve esserci la sincronia tra la D on-prem e l'Azure AD ma posso loggarmi con la canonica Windows Out quindi potenzialmente posso evitare di toccare la connection string dei miei applicativi vado dritto per dritto con Driver Legacy qui purtroppo preparare un ambiente demo di questo scenario era un po' complesso non ce l'ho fatta questa secondo me è una bella novità perché è sempre un'incognita quando si va a mettere le mani nella parte di autenticazione la possibilità di sfruttare l'autenticazione legacy in determinati scenari può darci un plus altra novità che mi è piaciuta in questo mondo sul mondo delle manager di instance è la parte di data virtualization questa funzionalità sostanzialmente che cos'è? è Polybase che funziona sulle istanze SQL Server da mi pare 2016 in avanti almeno sull'enterprise dà la possibilità di accedere ai dati remoti senza avere la necessità di inglobarli dentro il database quindi scenari in cui devo fare ingestion di dati che mi arrivano dal campo magari e mi atterrano su un data lake o su un blob storage normalmente cosa richiedono? ho la mia manager di instance ho i dati sul blob cosa devo fare per tirarli dentro e processarli? tipicamente ci devo mettere un qualcosa tipo un data factory che mi fa una copy activity mi porta i dati su un database di staging e poi da lì una volta che sto dentro la manager di instance li processo e li gestisco con la data virtualization invece ho la possibilità di creare una tabella esterna quindi una tabella dentro il mio DB che punta a dati esterni e poi facendo una banalissima query di select su questa tabella esterna leggo i dati come se fossero dentro il DB ma in realtà i dati non si sono mai mossi quindi ho la possibilità di fare ingestion di dati da fuori senza stare a importarmeli preventivamente questo ve lo posso far vedere è un processo piuttosto semplice allora, vado su management studio qui sono collegato su una manager di instance non devo far altro che attivare la funzionalità di polybase che sta sempre in preview, vi ricordo dopodiché vado a creare un external data source che punta a un, in questo caso a un blob storage qui sto utilizzando un dataset pubblico che accetta anonymous authentication quindi non devo fare niente di particolare se non passargli la URI diversamente se sto usando ops, l'ho già creato, scusate ho dimenticato di droppare tutto ovviamente non c'è più allora vi faccio vedere solo la parte di creazione comunque sostanzialmente qui va creato l'external data source se doveste lavorare con un vostro data source privato che richiede autenticazione dovete creare una il data source e una credenziale per accedervi e poi nella creazione del data source passate la credenziale dopodiché create un external file format dicendogli che tipo di file troverà sul blob in questo caso perché vediamo se avevo già creato anche questo ovviamente sì poi se tutto va bene questa deve funzionare a forza create un external table specificando i data type e dove stanno i dati fisicamente in che path del vostro blob stanno e a questo punto banalmente facendo una query sulla vostra tabella i dati arrivano i dati non stanno fisicamente nel mio DB ma stanno sullo storage remoto tables external tables qui c'è refresh la definizione dovrebbe esserci la definizione non ci sta più si è rotto tutto dovrebbe esserci comunque la definizione dell'external tables quindi fisicamente i dati non stanno nel mio DB ora torniamo sulle slide e arriviamo alle ultime tecnologie che mi sembrano interessanti queste sono legate invece alla tematica della migrazione dei database verso la vostra istanza è stato reso disponibile sempre in preview il log replay service sarebbe il servizio che sta dietro al Azure database migration service sostanzialmente è una sorta di log shipping continuo delle vostre basi dati che stanno on prem verso la manager di instance on prem o in cloud comunque stanno su una virtual machine su un'istanza tradizionale verso il cloud quindi sostanzialmente cosa fate? avete la vostra istanza con i vostri DB fate il backup portate il backup su un blob storage una Z copy o fate direttamente un backup to URL il sistema di log replay service è in ascolto su quel blob storage quando sente arrivare un nuovo file istanzia un restore with no recovery sulla vostra manager di instance quindi il database sulla manager di instance è sempre allineato ad ogni backup che arriva da un prem viene allineato il DB nel momento in cui si deve fare il cover quindi di smettere il sistema di partenza per lavorare poi solo sulla manager di instance non si farà altro che fermare il workload on prem fare un tail log backup ripristinarlo dall'altra parte mettendolo sullo storage il servizio lo ripristina e il database sulla manager di instance riparte ed è pronto a erogare il servizio questo servizio può essere utile in contesti dove non potete usare il database migration service nella sua interezza ci possono essere degli scenari in cui alcuni requisiti di questo servizio magari non fittano non sono utilizzabili lo rendono non utilizzabile allora in tal caso potreste andare a utilizzare questa soluzione per la migrazione arriviamo quindi all'ultimo scenario che vi volevo proporre che è lasciatemi dire un'estensione secondo me molto più interessante di quello che abbiamo appena parlato ed è la funzionalità di link della manager di instance a cosa serve questa funzionalità? sostanzialmente ci dà la possibilità di replicare uno o più database che abbiamo sull'istanza a bordo di virtual machine un'istanza tradizionale li replica sulla manager di instance li rende disponibili in read only e tutto questo funziona con un meccanismo di distributed availability group quindi il vostro database di partenza la vostra istanza di partenza non ha bisogno di essere già dentro un availability group può essere un'istanza stand alone senza problemi quando andate ad abilitare questa funzionalità viene creato un availability group single node sull'istanza di partenza viene poi creato un distributed availability group tra quello che avete on prem e un gemello sulla manager di instance il database quindi comincia a andare in replica ed è in near real time perché è replica sincrona ma comunque molto vicina l'on prem in dipendenza della bandwidth che avete tra i due end point quali sono gli scenari per utilizzare questa tecnologia? per esempio la necessità di fare offload del vostro workload di reporting avete il database di produzione che deve stare a terra magari per problemi di latenza non potete permettervi di portarlo in cloud potete fare offload di tutta la parte di reportistica o di analytics portando il database in cloud altro scenario alimentare sistemi di analytics quindi magari non ho reportistica diretta della mia applicazione ma comunque i dati contenuti nell'applicazione vanno ad alimentare sistemi esterni tipo un synapse o quel cle ecco anziché mettere un data factory con una self-hosted integration run time a terra e fare una copy activity verso il cloud ribaltate il database in cloud e pescate direttamente da lì altro scenario implementabile con questa tecnologia è una migrazione con minimal downtime sostanzialmente avendo il db in replica in near real time quando sono pronto al cutover non devo far altro che mettere la replica in sincrono passare da sincrono a sincrono fermo il workload giù faccio un failover e il mio database è operativo dall'altra parte a tendere potrebbe arrivare anche una funzionalità di failback e quindi rendere questa capacità questa funzionalità anche utile per scenari di disaster recovery in questo momento è one way si va solo verso su poi non si torna giù un domani non si sa mai ora come vedete riportato nella tabellina qua ci sono alcuni vincoli da da rispettare in termini di versioni è supportato ovviamente SQL Server 2022 2019 2016 2017 no quindi è un attimo da capire questo ma magari quando andrà in GA lo sarà ecco allora vediamo una veloce demo di quest'ultima parte allora scusate ho registrato la parte di implementazione l'ho registrata allora sostanzialmente sono sempre sulla VM di prima tramite il modulo di via tools di PowerShell faccio le configurazioni che servono all'inizio quindi vado ad abilitare la funzionalità di always on availability group sull'istanza solo diciamo metto la spunta al flag non configuro niente lo farà il sistema abilito dei trace flag che sono raccomandati per aumentare le performance della replica soprattutto nella fase di seeding vedete qui che i trace flag che ho inserito sono stati recepiti vado a riavviare il servizio per far digerire l'abilitazione del primo flag e dei trace flag successivamente poi devo sincerarmi che ci sia connettività tra la mia macchina di partenza e la mia manager di install quindi apro le regole del firewall sulla macchina locale e faccio un telnet sostanzialmente sull'endpoint di replica porta 5022 se la connettività c'è da questa parte verso la manager di instance ci andiamo dall'altra parte qui sono sul SQL server on prem cosa faccio? vado a creare una master key encryption che mi servirà poi per generare i certificati sul quale si basa questo sistema verifico di avere un livello di aggiornamenti tale per cui questo sistema funzioni always on è attivo i trace flag sono al loro punto quindi le modifiche che ho fatto prima ci stanno creo un certificato di test vado a creare un endpoint che stia in ascolto sulla macchina locale quindi la macchina di partenza e questo mi servirà testare la connettività dalla manager di instance verso di me avendo un endpoint vivo la manager di instance può provare a collegarsi verso di me questo lo facciamo creando un job sulla manager di instance crea un job del sequel agent con uno step di tipo powershell che fa sostanzialmente la test net connection quindi il telnet verso il sistema di partenza vedete è apparso il mio job a questo punto lo posso invocare e una volta che ho invocato il job posso andare a consultare nello storico se la connettività c'è le istanze si vedono a questo punto banalmente cliccando su management studio c'è questa nuova voce manager di instance link posso creare mettere in database in replica seguendo un wizard i prerequisiti li ho già smarcati tutti installando le cose in precedenza e abilitando la connettività di rete diciamo seleziono un database i database devono andare sotto una vela ability group quindi devono essere in full recovery model devo fare la login sulla sottoscrizione nella quale c'è la manager di instance che mi interessa e una volta fatto questo devo posso sfruttare l'end point e il certificato che avevo creato in precedenza devo definire il nome del certificato devo definire i nomi che avranno le entità che vengono create quindi l'availability group sul sistema di partenza e il distributed availability group che sta on top a questo una volta che ho fatto tutte queste cose parte la fase di creazione in questo caso il database era molto piccolo ha impiegato qualche secondo a essere replicato ho tagliato per brevità ma a questo punto sostanzialmente siamo pronti vi posso far vedere il sistema live allora ripasso di qua qui abbiamo il sistema di partenza con i database che stanno in synchronized sotto il nodo degli availability group vedete che ci sono più entità c'è un rapporto uno a uno ogni database che dovrete mettere in replica avrà un availability group e un distributed availability group on top potete gestirne fino a 100 ed il limite è dato dal numero di database massimi che sono ospitabili su una managgia di instance sostanzialmente solo quello che vi blocca poi ovviamente ogni entità avrà un consumo in termini di thread avrà un certo peso però comunque nelle versioni recenti di SQL Server questo è stato abbastanza alleggerito come carico se andiamo a vedere questo è l'avvailability group on prem quindi come availability replica vede solo la virtual machine di partenza questo è il distributed availability group correlato che vede come availability group come availability replica l'avvailability group on prem e la manager di instance qui non mi ricordo se si vedono non si vedono qua gli availability database si vedono a livello del locale vedete questo è il database che è gestito non ci sono listener se volete collegarvi vi collegate direttamente o all'istanza a terra o all'istanza in cloud e avete i due sistemi funzionanti nel momento in cui siete pronti per la migrazione se lo scopo per cui implementate questa tecnologia è migrazione nel momento in cui siete pronti non dovete far altro che andare su uno dei database tasto destro Azure SQL managed instance link failover database parte un altro wizard ovviamente tutto pilotabile anche tramite script non è un problema giusto per farvi della procedura selezionate il db che volete per il quale volete fare il failover viene richiesto di fare la login qui sarà di nuovo un cinema vediamo un po' se ce la fa ci pensa non è questo vediamo se si ricorda che ero logato ieri magia tutto bene qui avete la possibilità di fare un failover pianificato nel failover pianificato cosa succede? la replica verrà messa in sincrono e quando i due database sono perfettamente allineati verrà fatto il failover diversamente potete fare un forced failover che porta online il database secondario senza preoccuparsi del livello di allineamento che ha rispetto all'on-prem considerate che la replica di base è sempre assincrona perché è uno scenario cross-premises se voi configuraste normalmente la replica assincrona a meno di non avere una connettività di rete devastante introdurreste della latenza sul workload on-prem quindi normalmente si lavora in assincrono quando facciamo il planned failover dobbiamo confermare che il workload sia stato fermato on-prem perché diversamente se il workload sta continuando ad operare l'operazione di allineamento tra le due basi dati non finirà mai cercherà sarà sempre una continua rincorsa lì possiamo dire a valle dell'attività siccome non ci interessa più avere i costrutti on-prem di cancellare tutto quello che è rimasto a terra quindi l'availability group e il distributed availability group vedete qui ha tutta una serie di passaggi che farà tra cui la parte di scripting viene passata la replica in sincrono aspetta che la replica arrivi al perfetto allineamento dopodiché fa il failover in questo caso il workload on-prem è fermo quindi dovrebbe essere una procedura relativamente istantanea solo questione di connettività tra i due end point ma anche qui non dovrebbe essere una questione di molto i due allineamenti successivi li ha saltati perché non li ha ritenuti necessari quindi ha finito il nostro database di partenza era il 2012 non dovrebbe più essere insincronized infatti non c'è più la sincronia tra quello che c'era on-prem e quello che c'è in cloud quello non c'è più la parte di availability group e distribuite da availability group della parte 2012 in questo momento il db che sta in cloud cammina sulle sue gambe è operativo ed è online ok torniamo alle slide direi che vi ho fatto una capa tanta con 100.000 cose diverse per un buon 38 minuti qui vi lascio un po' di link per approfondire gli argomenti se avete delle domande sono a disposizione a me se non concesso che conosca la risposta quindi fatevi sotto nell'eventualità ecco vai Filippo grazie ho modo di connettermi puntualmente alle quattro repliche oppure io potrò sempre al listener eventualmente indicando l'intent read only e quindi lui mi manda o sulla replica read write però in questo caso allora se io devo creare un login di sequel che come ho detto devo creare su tutte quante le repliche con lo stesso seed e stessa password come faccio? lo gestisce in automatico lo gestisce lui tu vedi un'istanza tu non vedi la replica secondaria tu parli sempre con la manager di instance è lui che dietro le quinte si gestisce questa parte qua ok comodo sì 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 assolutamente tu non vedi nemmeno la replica secondaria è molto simile a quello che ovviamente più o meno è lo stesso meccanismo che puoi implementare anche un prem con Arc la data platform per la parte di Arc hai quattro pod diversi in replica tra loro ma tu vedi un entry point non hai visibilità è pass ed è bello per questo cioè è tutto mascherato dal tuo punto di vista sai che dietro le quinte ci sono questi oggetti è bene saperlo anche per dimensionarli per capire quali sono le logiche di funzionamento per capire quali sono i potenziali problemi che ci possono essere però sta tutto dietro le quinte ok e per quanto riguarda la manager di instance link ho modo un DB su un'istanza on-prem di ripricarlo verso diverse manager di instance oppure quindi posso avere più copia e più manager di instance in read only sì 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 mi sembra proprio di sì non l'ho provato ma mi sembra che nella documentazione sia proprio un caso d'uso citato dove quindi tu hai un database di partenza che viene sparato verso n repliche sostanzialmente lo fai cioè con Horizon Availability Group normali lasciatevi dire lo fai lo puoi fare anche con questo altre domande vai questa è un'ottima domanda grazie per questa opportunità non ne ho la più pallida idea onestamente non lo so posso guardarci e cercare di darti una risposta onestamente non lo so non so se il Polybase implementato in Azure SQL ma anche diciamo negli altri flavor dove era già operativo supporta questa possibilità non te lo saprei dire di nulla altri a posto allora niente domande da casa quindi ragazzi vi ringrazio molto per l'attenzione è stato un piacere e grazie ancora agli sponsor vi ringrazio molto e grazie a tutti